Garanzie certe sia per la carriera dei ricercatori sia per la sostenibilità economica della loro presenza in Ateneo. Il Senato accademico dell'Università di Bari ha ascoltato in audizione una rappresentanza dei ricercatori che da qualche settimana sono in agitazione, ribadendo anche le proprie preoccupazioni per il futuro della categoria. Il Senato ha preso atto di questo e intende assolutamente sottolineare che è indispensabile che questa categoria che noi riteniamo essenziale dell'attività di ricerca e di didattica dell'Università abbia il riconoscimento che le compete. Per il Rettore dell'Ateneo Barese, Corrado Petrocelli, la linea di improvvedimento legislativo di riordino del sistema universitario deve essere netta. Le nuove forme di reclutamento che noi riteniamo positive debbono però prevedere la possibilità per tutti coloro che lo meritano, cioè per quelli che supereranno il concorso ottenendo l'attivizzazione scientifica nazionale, di transitare nelle tasse superiori della docenza. Ma soprattutto ci vogliono le risorse, perché nessun provvedimento riformatore si potrà ottenere praticamente efficace se non è accompagnato dalle risorse che attualmente al sistema universitario mancano.